Assolutamente no, come dicevamo e abbiamo detto più volte, il farmaco generico barra equivalente deve contenere la stessa identica quantità di principio attivo, deve avere la stessa formulazione, compressa contro compressa, potrebbe, può differenziarsi in alcuni componenti secondari cosiddetti eccipienti, ma poi magari vediamo in dettaglio in che modo questa differenza può assumere un significato, non deve assumere un significato sull'efficacia e sulla sicurezza del farmaco.